I castelli lungo la Sacile Gemona, il tema della terza edizione è di vacanza collettiva slow a cura della Ciampore, associazione sportiva e di promozione sociale. L'iniziativa si colloca nel programma del Treno dei Poeti 2017, un insieme d'azioni per la promozione del turismo slow lungo la ferrovia pedemontana e la pista ciclabile FVG3. La partenza della vacanza collettiva slow, siamo qui alla stazione di San Liberale, siamo pochi ma strada facendo abbiamo già chi ci raggiungerà, evviva! Adesso pochi alla volta stanno arrivando anche gli altri partecipanti, siamo pronti in direzione di Caneva, signore e signori, evviva! Eccoci qua a Polcenigo dove ci sono le cascate. I preparativi fervono per arrivare questa sera alla partenza della vacanza collettiva slow. La scomlazione di San Iom. La sap apace di San Iom. LaChe da copie in direzione di San Iom. La fourteplicità di San Iom. Comece in�ụ in direzione di San Iom. Grazie. 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 Ecco, ci avviciniamo al parco della colonia. Grazie. 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 Grazie.